41.000 views! Possiamo fare l'outro mandando un bacio La facciamo anche noi l'outro con i baci? Tipo Fai scappare tutti Ti prego no Guarda, quello è vestito da Spider-Man e noi no Quello è vestito da Spider-Man e noi no Guarda, l'è vestito da quello degli incredibili La vedi? Quello è vestito da karate Ma sono bellissimi E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Steph E questo giorno giocheremo a YouTuber's Life E siamo nel nostro nuovo appartamento Guardate che bello Io sono felicissima È molto più grande dell'altro Abbiamo un letto gigante Ma ci sono delle piccole differenze Rispetto a quando vivevamo con la nostra mamma Non sono piccole Però prima di tutto godiamoci il posto Stampo di cantina Bisogna metterlo Non è proprio l'appartamento più bello di sempre Ma è un inizio È un inizio per l'indipendenza E cosa vuoi già la villa di lusso? Certo che devi iniziare da qualcosa di un po' più piccolo Comunque Facciamo un pochettino reso conto della situazione Ok Le differenze sono che ovviamente si paga un affitto Quindi dobbiamo sempre stare attenti ai soldi Altrimenti ci buttano fuori di casa Mi pare che fosse 80 dollari al mese Una roba del genere Quindi non è proprio poco Abbiamo pagato i primi due mesi Una volta che siamo arrivati qua Quindi diciamo che per un pochettino siamo appunto Esatto Altra novità Il cibo che sta dentro questo mini frigo Bellissimo Che ovviamente Se fai vedere Ah no è andato a fare shopping Sto facendo vedere dove si compra Perché vedete Noi abbiamo qua un bellissimo menu E dobbiamo comprarci la roba da mangiare E costa caro Perché un'insalatina a 4 dollari Non è poco Vuoi vedere anche una coca cola? Un dollaro e 50 C'è sono prezzi da bar questi Sì la differenza È che prima a casa di nostra madre Non pagavamo il cibo Adesso invece ce lo dobbiamo comprare Proprio ogni cosa dovrà essere gestita bene Per evitare Guarda quanto Guarda quanto stiamo spendendo Hai preso due cavolatine Manco avessi comprato la spesa della vita E dicevo I soldi vanno gestiti bene Perché altrimenti rischiamo di finire sull'astrico Ci avevano consigliato Infatti nei commenti Che forse sarebbe stato meglio Restare ancora un po' A casa con la mamma Accumulare soldi Cambiare un po' di attrezzatura E poi spostarsi Era un'idea saggia Ma ci siamo fatti prendere dalla fretta Non Allora Sì Allora Sì Sentiamo le tue giustificazioni Ti propongono di andare a vivere da solo Io ho pensato Adesso abbiamo già la casa figa Sarà tutto più semplice Perché così la mamma non ci scoccia Sempre dicendoci di studiare Invece sì È vero È stato È stato davvero difficile Soprattutto amministrare i soldi Non è stato per niente facile E non sarà per niente facile In ogni caso abbiamo anche cambiato Qualche pezzo Della nostra attrezzatura Non è che sia tanto migliore Però È un inizio Esatto Sì perché siamo molto poveri ragazzi Sì Stiamo proprio stringendo la cinghia Perché è davvero difficilissimo Comunque si vede già quello che abbiamo preso Come vedete la postazione è cambiata C'è il nuovo microfono Esatto La nuova webcam Che è similissima alla nostra È uguale identica alla nostra Cioè almeno di estetica È uguale identica Esatto La tastiera guarda che bella La tastiera è quasi da gamer Quasi Quasi E il mouse nuovo Molto bellino Non siamo ancora riusciti A cambiare il pc Perché costa un sacco di soldi Ma proprio un sacco Non hai detto le due cose più belle di questa casa Perché sono due Allora io me ne ricordavo solo una La prima è la connessione Che è quattro volte più veloce Di quella che avevamo Quindi video in upload Almeno sono veloce Allora editing 45 ore Upload 5 ore Quindi Beh perché penso che per l'editing Andrà migliorato proprio il pc Esatto Quindi per ora dobbiamo ancora aspettare La seconda cosa la sai L'altra cosa esatta E quella che stavo per andare a dire È che non dovremo più studiare Come nella casa Di prima Di nostra madre Di prima va bene Non sapevo come dirlo Scusami Ok ti perdono Ma avremmo dei corsi da fare Che sono sì in questo scaffale arrugginito Però vabbè Sono dei corsi fighissimi Come vedete non ne abbiamo iniziato Neanche uno Perché costano pure queste Sire di Dio Io davvero Che tristezza Guarda Dobbiamo essere orgogliosi Dire è tutto migliore Ora va tutto meglio Ci possiamo fare le foto Operista Che erano più belle In ogni caso Non perdiamoci Perché non ci dobbiamo perdere In chiacchiere Dobbiamo iniziare Allora quali sono gli obiettivi Dici dici Sei la detta agli obiettivi Andare alla festa in costume Ecco qua Non fare iscritti I soldi No Andare alla festa in costume No allora Ricapitolando Ok Io per questo episodio Vorrei accumulare soldi Per potenziare il nostro pc Ok Perché davvero non ne posso più Di tutte quelle ore Mi sembra una stagge idea Di editing Quindi direi Sì Di fare dei video Ovviamente perché altrimenti Perdiamo iscritti E ne abbiamo già Quasi 15.000 Quindi non vorrei iniziare A perderne Ok E poi faremo qualche lavoretto Giusto perché La vita da soli È davvero dura Bisogna far vedere Quanto è dura la vita da soli No ma poi Ormai abbiamo deciso Di vivere da soli È anche giusto Che ci diamo da fare Dobbiamo darci da fare Stiamo già finendo Le scorte di cibo Perché questo cosa Non si sfama ragazzi Cioè rispetto a prima Mangia tantissimo comunque Tu li stai facendo Mangiare un'insalatina Non è che ti sfama Adesso ho pezzi di pane Poverino Stai proprio facendo La vita difficile Iniziamo Aspetta 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 Forza altissima Che dobbiamo fare Apri il calendario Apri il calendario Ok A fine mese Call of fury Assolutamente Ma costa un sacco Cazienza No no Accostano un sacco Anche gli altri Va bene Call of fury Se potessi tornare indietro Avessi la possibilità Di fare il primo Call of duty Non lo faresti? Non lo so Non lo so Ma che era una figata Prima Era una figata Pazzesca Ma non mi interessano Queste discorsi Io non amo Gli sparatutto Ok Ok Questa è una dichiarazione Ufficiale Lo ammetto No cioè mi piacciono Ma poi sai che cosa succede? Che praticamente io ci gioco Ok Perdi Divento nervosa No divento nervosa Ti ammazzano Ti fanno arrabbiare Ok E inizio a urlare E rompere le cose Quindi Steph Mi ha vietato di giocare Ai giochi In realtà io ti ho vietato Di giocare ad Aston Principalmente Aston è anche Clash Royale È una nuova giunta Allora sono praticamente Tutti giochi di carte Tutti giochi in cui si shoppa Perché io ovviamente Poi mi Mi arrabbio Contro il sistema E gli spara tutto Che mi fanno diventare Una persona terribile Quindi Vedi questo è un posto avanti Ho raccontato la mia storia Ok Al mondo intero Ok Allora Mi vorrebbe scrivere Purtroppo non usciranno altri 15 Però non possiamo Scrivi Il miglior cecchino Oh No 360 Quickscope PPU Wow Che titolo efficace Che titolo E' efficace Comunque Ok siamo pronti Concentrata Speriamo vada bene questo video Allora abbiamo subito Un formal greeting Per iniziare al meglio il video Guarda subito Spapam 3-3 Questo parte alla grande Assolutamente Poi cantiamo Cantiamo Io vorrei cantare nei video Lo può fare Stereniki al posto mio E sono felice per lui Magari Stereniki è più intonato di te Non vorrei dire Non è vero Ma mi hai mai sentito cantare Sì purtroppo Sì sì Ti ho sentito Cerca di fare bene questo video Perché dobbiamo andare meglio nel canale Non è bene È bellissimo Perché stavamo perdendo iscritti E non va bene Dobbiamo suscitare nuovamente L'interesse del pubblico Guarda mi voglio Proprio esporre Ti dico Questo video fa 25.000 views Adesso non le fa E ci rimani male No no le fa Le fa te lo giuro Edita bene Concentrati Ok ok Concentrati Deve essere un editing perfetto Ok Non combaciano Abbiamo già un problema Non combaciano Possiamo fare così Così E così E così E così Come vedete 14 ore di render 5 Di upload Però almeno l'upload è migliorato Dai vediamo il lato positivo della cosa È già Se dobbiamo trovarlo Sì Diciamo Assolutamente Con le copertine vedi È migliorato molto Non c'era un corso per le miniaturie No Non c'era Perino è proprio negato Secondo me Ne avrebbe bisogno però Fa un sacco di views Quindi non ne ha bisogno Scusami Andiamo per un lavoretto Allora possiamo aiutare Nostra nonna Possiamo lavorare In un negozio di videogiochi GameStop Oppure possiamo andare a fare Tipo Gli hostess negli eventi Si chiamano hostess Anche in italiano Ok Quindi quelli che praticamente Ti assistono Ti dicono Guarda qui c'è questo Vieni seguimi E ti stressano Durante tutto l'evento Abbiamo capito Che non ti piace Lavoriamo dai videogames Beh il videogame store Magari ci fanno lo sconto Su qualche videogioco No Oppure lo rubiamo Ci pagano i 40 dollari Giusti giusti Ma che rubi Ma che cosa dici Te lo metti in tasca E te ne vai Ma è illegale Fare una roba del genere Non è che se nessuno Se ne accorge Diventa illegale Uffa 41.000 views Oddio Questa cosa è da matti È da matti Con lo fiori Però vedi abbiamo fatto Bene a comprarlo È stato un buon investimento Per il canale Di Stere Nikki Allora Adesso dormiamo un pochettino Ci mangiamo qualcosina Allora per festeggiare Le views Ci mangiamo Adesso ti faccio vedere un po' Un bellissimo hot dog Guarda che buono Cosa è che non ci possiamo permettere Tutti i giorni Proprio cibo di lusso Esatto E dopo aver mangiato Un bello hot dog Siamo felici Siamo felici per le views E ci facciamo Il secondo episodio Di Call of Duty Assolutamente sì Olè Guarda 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 Ok concentrata E dobbiamo Ma per cosa abbiamo sbloccato Qualche altro tipo di video Mi è sembrato di vedere recensioni No Possiamo fare i vlog Possiamo fare l'outro Ma non un bacio La facciamo anche noi L'outro con i baci Tipo Fai scappare tutti Scappare tutti Ti prego no Sei sempre crudele Che palle Sono realista Io ti dico la verità Cosa vuoi Una persona che ti dice bugie Dicendoti sì Fai tutto E poi ti fa andare male Tutte le cose Vuoi una persona realista Ci si è spaccato il pc Vedi le scintille a destra No Di nuovo Sì di nuovo Ma si rompe in continuazione Non è possibile Non è possibile Lo so Editiamo troppo Capito Non c'è niente da fare Troppi video Poi vabbè Con editing e rendering Da 15 ore Secondo me si spaccherebbe Anche il nostro Ogni due giorni Quindi forse in effetti È realistico Marquez Nessuno ti ha invitato A casa nostra Allora Ci sta chiedendo Di andare a vedere Un film E se ricordo bene Il 24 aprile C'era Titonic Vuoi andare A vedere Titonic Ma l'hai visto Forrest Gump Proprio Gump Scritto Gump No non ci voglio andare Al cinema Perché Marquez Ok Ok Sai che giorno è? Il giorno è del party Sì È il giorno è del party Mangiamo e andiamo Allora Ok Bisogna prepararsi bene Tipo che 5 ore prima Noi dobbiamo preparare Il nostro costume Perché i party in costume Sono la cosa migliore del mondo Ma secondo te come funziona? Ascolta Mi è venuta un'idea Ok Vai nel calendario Ok Invitiamo la nostra vicina di casa Ok Come si chiama? Perché magari possiamo diventare Molto amici Tessa 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 Ok È Tessa? Sì Sì ok Possiamo invitare anche un'altra persona C'è qualcuno che ti sembra simpatico Quella con cui abbiamo ballato È questa No 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 Non si possono invitare due ragazze Ma che scherzi Hai ragione Ma che scherzi Cioè io con Tessa vorrei proprio fare amicizia Perché già che Che viene sempre a giocare a casa nostra Vuol dire che mostra un interesse Nei nostri confronti Scusa Non è una coincidenza Quindi almeno noi per gentile Stai cercando di trovare ragazza? Sì La invitiamo al party Ok va bene Guarda Sterinichi è troppo carino Guarda che se poi non Cioè non li troviamo ragazza a noi Magari si trova una ragazza brutta Capito? Cosa tutto sta succedendo? Basta Allora Calmi un attimino Allora Allora Continua a ricordarci che c'è il costume Il problema è che non abbiamo Ma dobbiamo comprarli i vestiti È ormai ne è troppo tardi Dobbiamo andare Sto cercando di vestirlo il più strano possibile Per sembrare un costume No È così Vai No no Non ci credo Dobbiamo andare così Non abbiamo i vestiti Mi dispiace vedrai tutti i vestiti in modo figo Io ti ho detto Preparati per il party Ti devi preparare 5 ore prima Perché non sei capace di fare nulla? Perché non sei mai capace Sono brava a fare tante cose Di fare le cose che ti dico Guarda Guarda Quello è vestito da Spider-Man e noi no No Quello è vestito da Spider-Man e noi no Guarda L'è vestito da Quello degli incredibili La vedi? Quello è vestito da Da karate Ma sono bellissimi Quello è vestito da Kill Bill Quella in giallo Quella lì giù in giallo Credo proprio di sì Dimmi che c'è un guardaroba Questo è Wolverine? Io sono arrabbiatissima Sono arrabbiatissima Dimmi che c'è un guardaroba da qualche parte Ok controlliamo Controlliamo Di sicuro c'è il DJ Questo non vuole parlare con nessuno Non ci possiamo neanche cambiare Ti odio No Ti odio Sei un fallimento È colpa tua No è colpa tua Dovevi pensarsi tu al costume Io ci stavo pensando da un sacco di ore Tu mi hai totalmente ignorato E ti sei vestito così Cioè cosa saresti? Sono uno sfigato Non ho nessun modo per difendermi Non c'è niente da fare Mi voglio far perdonare Voglio fare amicizia con te Voglio proprio tornare a far pace No Quindi ci compriamo il vestito Per la prossima festa in costume Guarda io te lo dico Ok Alla prossima festa in costume Dobbiamo portare anche una videocamera Perché ci hanno detto Che c'è la possibilità di registrare Mentre siamo in un posto Ok Quindi ci Cioè questa volta non aveva senso Perché non eravamo neanche vestiti Saremmo stati ridili Esatto Al prossimo party ci torniamo Andiamo vestiti E facciamo anche il vlog in giro per il party Per vestirci Siamo rimasti con due dollari Quindi sentiti un po' di colpa Con che ci vestiamo così Per stare in casa Perché voglio vederlo vestito in quel modo Assolutamente sì Alla Ma è carinissimo questo vestito Ma lo usiamo tutti i giorni Ok Questi 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 Non abbiamo pagato le bollette? Siamo a meno 77 Perché ho comprato i vestiti? Perché ti ho dato ascolto? Perché l'ho fatto? Cioè adesso come facciamo? Dobbiamo fare un sacco di soldi Assolutamente Niente occhiali perché siamo dei bulletti Con lana Cioè no guardalo Guardalo ti prego Io non riesco a parlare perché sto ridendo troppo È bellissimo Rimarrà vestito così per i video? Ok decido Ok Allora Dobbiamo essere concentrati Siamo senza soldi Ci mangiamo un'insalatina Dormiamo Registriamo un video Andiamo a lavoro Tutto Pum 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 Dobbiamo recuperare Ok Guarda io non so se ti perdono Perché mi hai fatto andare No allora Sono io che non ho ancora perdonato te È questo che ti sfugge nei nostri discopoli Ci hai fatto fare una figuraccia Perché non pagare i soldi È una figuraccia Questi continuano a darci fastidio Mi stanno infastidendo Ci voleva dare 30 dollari Per il nostro vestito da rockstar Eh certo Mai nella vita L'abbiamo pagato 2000 volte di più Ok Terzo video di Call of Duty Assolutamente Ok direi che ci possiamo fermare Ci siamo ricaricati un po' di soldi Possiamo stare tranquilli Eravamo in rosso Io mi stavo davvero preoccupando La vita da sola Tu ti preoccupi Cioè mi fai spendere Tutti quei soldi Per dei vestiti inutili E poi ti preoccupi Che non abbiamo i soldi Questo è perché non sei andato Al party vestito in costume Cioè è una cosa illegale Andare a un party in costume Senza il costume Ragazzi Pensi solo a quello Io non ho parole Comunque Sì Penso ci manchino circa 100 dollari Quanto ci vuole per cambiare il pc Costa parecchio Costa parecchio Dovremmo ancora sudarcelo Il pc nuovo In ogni caso È l'obiettivo Ma soprattutto Se guardate in alto a destra Siamo a 32.000 iscritti Su 50.000 Che ce ne servono Come prossimo obiettivo E sai cosa succede a 50.000? Cosa? Che diventiamo dei veri youtuber Uh quindi è il momento in cui tu sei proprio no youtuber Secondo me cambieremo di nuovo casa Comunque l'obiettivo del prossimo video è cambiare il computer e registrare un blog Secondo me dobbiamo comprarci una videocamera per registrare il blog Anche secondo me perché non avevamo la possibilità al party di cliccare su noi stessi come ci hanno detto Esatto E poter appunto registrare Quindi secondo me ci vuole Anche se quello puoi fare anche col cellulare Non so perché non la Non ce l'abbiamo Non lo so Non lo so Fateci Però anche qua c'è una fotocamera Scusami Perché forse è troppo brutto il telefono che abbiamo Eh magari non va bene per il vlog Penso anch'io comunque che dovremmo prendere una videocamera Beh ragazzi il video è facile così Se vi è piaciuto scelteci il mio like E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao ciao Ciao